Musica Buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione in diretta su Telebari e Radio Bari In primo piano a una settimana dall'ultimo episodio di femminicidio è venuto proprio a Bari Oggi si torna a parlare di violenza sulle donne I sindacati, i centri antiviolenza sono preoccupati per la mancata modifica dell'articolo sulla depenalizzazione del reato di stalking Che entrerà in vigore tra qualche giorno Vediamo di cosa si tratta Prevede che nel caso di reati perseguibili a Querela con una condanna editale di 4 anni Massimo Il giudice possa prevedere su richiesta solo dell'imputato Quindi senza ascoltare né la parte lesa né il pubblico ministero Può esprimere un suo parere ma non è cogente Di dare una somma di denaro da pagare anche a rate E l'imputato rimane non solo assolto ma senza precedente penale Senta ad arrivare la modifica del nuovo articolo del codice penale, il 162 TER Un provvedimento che allerta non solo le maggiori sigle sindacali Ma soprattutto i centri antiviolenza che temono per il futuro delle donne Che decidono di denunciare dopo un lungo percorso non poco doloroso Tanti anni di lavoro difficile per inculcare una nuova e diversa cultura alla vita Che potrebbe essere mandato in fumo Nonostante l'impegno del ministro Orlando Al momento non si registrano cambi di rotta Dietro un comma si nasconde un mondo di sofferenza E il grido della CISL a cui si sono unite CGL e Will Ma siamo impazziti? Cioè da una parte si grida all'allarme Che vede in preoccupante ascesa I crimini nei confronti delle donne Le violenze più assurde perpetrate nei loro confronti A danno anche dei minori E dall'altra parte che si fa Si depenalizza un reato come lo stalking Che sappiamo essere l'anticamera del femminicidio Le conseguenze potrebbero essere allarmanti In un momento storico in cui aumenta il numero di chi denuncia Certo, ma anche di chi muore troppo spesso Per mano di chi credeva di amare Le donne potrebbero smettere di parlare Di denunciare e di coltivare la giaffioca fiducia nella giustizia I tempi sono molto lunghi Dispetto delle varie riforme intervenute negli anni Non si dà priorità ai processi delle donne vittime di violenza Vengono trattati come processi normali Quindi con i tempi lunghissimi della giustizia E quindi diciamo che si sentono ulteriormente violate La sorpresa alle spalle le ha abbassato la gonna E ha cominciato a prenderla a pugni in faccia Con l'accusa di tentata rapina I danni di una giovane barese Un cittadino etiope è stato arrestato dai carabinieri A due passi dalla caserma di via Tanzi Nel sottovia pedonale ferroviario L'uomo ha aggredito la vittima Nel tentativo di strapparle la borsa I militari lì a pochi metri Hanno sentito le urla di aiuto E giunti sul posto hanno arrestato lo straniero La donna invece è stata soccorsa dal 118 Che ha riscontrato evidenti segni di aggressione Sul volto e sul collo E puntuale come ogni anno La fondazione Ciauvini organizza La giornata di donazione del sangue L'appello a donare arriva anche dal sindaco Antonio De Caro I donatori vanno in ferie Gli incidenti stradali aumentano E la carenza di sangue disponibile negli ospedali Per eventuali trasfusioni Potrebbe dare origine a vere e proprie emergenze Ma la fondazione Ciauvini lancia un appello Ad associazioni e cittadini E puntuali come ogni anno Organizza la giornata della donazione del sangue Appuntamento alle 7.30 del mattino Al Policlinico di Bari Molto spesso ci troviamo a non poter fare Degli interventi chirurgici Per mancanza di sangue Quello che noi facciamo È l'invitare Tutte le associazioni E tutte le persone Che normalmente non donano Quindi si chiamano donatori straordinari E oramai da 3-4 anni Ci siamo stabilizzati Su un numero più o meno Di 70-100 donazioni in una giornata Cerchiamo di far respirare un po' Le casse della banca del sangue Presente all'appello Il sindaco di Bari Antonio De Caro Che si unisce a Lorenzo Moretti Nell'appello rivolto ai baresi L'appello che mi sento di fare È di venire a donare Se qualcuno ha la fortuna di poter andare in ferie Viene a donare E va in ferie in maniera Diciamo più serena Ecco Sapendo che ha fatto qualcosa di buono Per la propria comunità E per le persone Che probabilmente ne avranno bisogno Sono dieci anni che dono Quindi questa è la tappa estiva Solitamente rispetto sempre il richiamo Delle associazioni Ma lo faccio anche senza nessun richiamo Dono ogni sei mesi È un gesto che mi piace fare So che è importante farlo Perché l'ho subito sulla mia pelle Quindi 30 minuti di vita Dedicati al prossimo Ci sta, si può fare Pronto il regolamento Per la definizione agevolata Delle controversie tributarie Pendenti a renderlo noto L'assessore al bilancio I tributi del comune di Bari Alessandro D'Adamo L'obiettivo è quello di semplificare Le procedure Ottimizzare i costi per i cittadini Si potrà ottenere anche Una riduzione significativa Del debito Grazie all'esclusione Delle sanzioni E degli interessi maturati Dal sessantesimo giorno successivo Alla notifica dell'atto di accertamento Oltre che delle spese di lite Liquidate nelle sentenze non definitive Sopra luogo Questa mattina Del sindaco De Caro Sul cantiere dell'ex mercato del pesce In piazza Ferrese Per verificare lo stato di avanzamento Dei lavori Alla visita ha partecipato Il sovrintendente delle belle arti E paesaggio per la città metropolitana di Bari Luigi Larocca Ad illustrare le attività di cantiere Le modifiche apportate al progetto Invece la direttrice dei lavori Anita Guarnieri Del segretariato regionale Del MIBACT per la Puglia Sentiamo Dottoressa come viene modificato il progetto Allora a fronte dei rinvenimenti archeologici E quindi della presenza di questo muro Di questa fattura Di questo muro così importante Rimoduliamo completamente il progetto del piano terra Quello dell'area mercatale Dando importanza all'asse diagonale del muro Che diventa l'elemento da valorizzare Per cui nella fascia dal muro Alla parte che dà sul mare dell'edificio È un'area destinata al racconto Del rapporto della città di Bari con il mare E dell'evoluzione del porto Dell'antico porto di Levante Sul muro poi si imposta invece La linea di demarcazione Con l'area mercatale Che si svilupperà quindi a partire Dalla linea diagonale verso Piazza Ferrarese Sono 162 docenti dell'Università degli Studi di Bari Bari che hanno sottoscritto lo sciopero Per gli scatti stipendiali Alla base della protesta Non ci sono solo ragioni di carattere economico Ma anche un forte dissenso della categoria Nei confronti delle politiche di definanziamento Che hanno danneggiato l'intero mondo della formazione Tuttavia si legge in una nota inviata Dall'associazione studentesca Link Bari La forma che si è scelta di dare alla protesta È quella della sospensione di un appello d'esame Durante la sessione autunnale Che va dal 28 agosto al 31 ottobre dell'anno corrente E a pagare le spese di una simile modalità Sarebbero gli studenti I quali vedrebbero l'ESO Il proprio diritto a sostenere gli esami E torniamo ora sulla nostra inchiesta Sul grano I controlli sono una garanzia Ma non l'unica Allora sentiamo le parole Del professor Tommaso Cataldi Della Facoltà di Chimica Del Politecnico di Bari La garanzia Insomma un rischio zero Che tutte le materie prime Non siano contaminate Non esiste No Nella maniera più assoluta Bisogna soltanto effettuare I controlli Ripetuti Nella maniera adeguata Per rendersi conto Se i livelli Per caso Dovessero eventualmente superare Quelli che sono previsti per legge In questo caso Sotto accuserano i livelli di donne E anche l'eventuale presenza di grifosate Che viene utilizzata nel grano canadese Per essiccare le piante Ci sono però dei sistemi Che permettono di abbassare sensibilmente Eventuali livelli di contaminazione Per quanto riguarda le micotossine I livelli sono Si possono soltanto ridurre Mescolando con grani Diciamo con tenore più bassi di micotossine Per quanto riguarda i glifosate C'è molto meno da fare Insomma ecco C'è da tenerli sotto controllo E che non debbano Superare i limiti Che sono previsti Per legge sia in Europa Che in Italia Se la crusca Che è la parte esterna del grano Contiene i livelli più alti di contaminazione E venisse data come mangima di animali Cosa accadrebbe? Beh gli animali evidentemente O in parte Se li ritrovano poi nel latte Se sono bovini o ovini Oppure è chiaro che Anche delle carni a lungo andare Quindi con problemi di tossicità Anche degli animali Non vengono smaltite In maniera diciamo Come dire facile Qua tra virgolette Sono sostanze che devono essere metabolizzate dal fegato E accumulandosi A lungo andare Andranno dei problemi Insomma Un finger spinner con il volto di Don Bosco Tanti sorrisi Un solo grido Pace e gioia Si è conclusa così L'edizione 2017 Scusate Dell'estate ragazzi Dell'Oratorio del Redentore Azzurro, verde, rosso e giallo Ecco i colori dei 250 ragazzi Dell'Oratorio del Redentore Che per un mese intero hanno preso parte La vita Seguendo delle regole Divertendosi 500 punti alla squadra Che fa più silenzio Ma è impossibile Restare zitti Al grido Pace e gioia Don Francesco Prete Direttore dell'Oratorio Incita così i suoi ragazzi Lasciandoli però liberi di ballare Sulle note dei pezzi cult dell'estate Vorremmo più ragazzi Perché l'integrazione Tra i ragazzi vivaci E quelli buoni Serve sia a quelli vivaci Che a quelli buoni Per poter crescere E' un microcosmo bello Quello dell'Oratorio Bisogna crederci E non bisogna mai stancarsi di educare A vincere l'edizione 2017 Dell'estate ragazzi La squadra azzurra Capitan Bogo Una coppa simbolica Per i primi classificati Una sacca per gli animatori Supportati dagli alunni Di alcuni istituti scolastici Della città E per tutti Un finger spinner La trottola del nuovo millennio Decorata con il volto di Don Bosco Un regalo dell'Oratorio Non solo ai suoi Ma anche ai ragazzi E ai bambini Che vivono in zone di guerra Il 30% del ricavato dell'acquisto Sarà devoluto infatti Ai missionari salesiani Che operano in Medio Oriente E in particolare in Siria E per questa edizione è tutto In chiusura come di consueto Vi ricordo i nostri siti Internet Telebari.it Radiobari.net Per tutte le vostre segnalazioni Il nostro indirizzo di posta dedicato Info Chiocciola Ilsegnodizorro.it E ora vi lasciamo al meteo Grazie per averci seguito Un saluto e un ben ritrovati Un nuovo aggiornamento previsionale Una giornata di martedì Che vedrà l'alta pressione Protagonista del tempo Su tutte le nostre regioni Posizionata proprio sul Mediterraneo Centro Occidentale Guardate il bel tempo Anche sui Balcani Sulla Grecia Qualche temporale nel pomeriggio Si formerà come sempre Sull'arco alpino Svizzera ed Austria Ma andiamo a vedere la copertura nuvolosa Ci conferma una giornata di bel tempo Con cieli sereni O al più poco nuvolosi Nel corso del pomeriggio Qualche temporale non mancherà Appunto sulla zona alpina E infine la mappa dell'Italia Eccolo qui l'anticiclone Che favorirà una giornata di bel tempo Da nord a sud Tanto sole lungo le spiagge Ma anche in montagna Al più sulle alpi settentrionali Qualche isolato temporale Temperature in aumento Al nord Italia Raggiungeremo nuovamente I 33-34 gradi Sulla bassa Valpadana Con questo per il meteo è tutto Gli aggiornamenti Scaricano l'app di trepimeteo.com Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti